Salve a tutti e benvenuti a questa nuova lezione sulla rivoluzione russa. Oggi entreremo proprio nel merito della questione parlando appunto del 1917, l'anno nel quale scoppiò la rivoluzione stessa. Iniziamo parlando della prima fase della rivoluzione russa, quella che viene definita la fase democratico borghese. Allora vediamo qual è la situazione iniziale. All'inizio del 1917 la Russia era un paese in preda a fortissime tensioni sociali. Queste tensioni erano causate dall'andamento della guerra soprattutto. Immaginatevi la situazione, i tedeschi stavano attaccando, gli austriaci stavano attaccando. Ma i tedeschi erano ovviamente il nemico più forte, erano quelli che sfondavano in continuazione il fronte e i russi per riuscire in qualche modo a tappare i buchi, in qualche modo a fermarli dovevano continuamente portare al fronte nuove forze fresche. Quindi un sacco di giovani che andavano via, che venivano tolti alle famiglie, tolti alle loro case e mandati a morire nei campi, nelle trincee, nei campi di battaglia. Oltre che per i soldati al fronte però, le condizioni di vita erano difficili anche per la popolazione civile, in quanto il sistema di approvvigionamento ormai aveva perso efficacia. Nelle città mancava tutto, mancavano i viveri ma mancava anche il combustibile e questo ovviamente era un grosso problema con l'inverno russo. Come mai mancavano i generi di prima necessità? Beh, soprattutto a causa dello stato disastroso in cui versava il sistema ferroviario russo. Nelle campagne invece, dove appunto non mancavano sicuramente né viveri né combustibile, l'inquietudine dei contadini aumentava a causa di quello che vi dicevo prima, il sempre maggior numero di soldati, di ragazzi giovani reclutati per la guerra che partivano e non tornavano più. Questo malcontento popolare era così forte che all'inizio del 1917 scoppiò la rivoluzione. Inizio del 1917 vuol dire fine febbraio se si calcola secondo il calendario russo o inizio marzo se si calcola con il calendario del resto dell'Europa. Comunque all'inizio del 1917. Dove scoppia la rivoluzione? Scoppia a Pietrogrado. Pietrogrado prima si chiamava San Pietroburgo ma siccome questo nome San Pietroburgo suonava troppo tedesco era stata ribattezzata Pietrogrado con un nome molto più slavo all'inizio della guerra. A Pietrogrado quindi insorgono gli operai e insorgono in massa come avevano fatto anche nel 1905. Lo zar in questa occasione ordinò alle truppe di disperdere i manifestanti o meglio lo zar era al fronte in quanto capo delle truppe ma coloro che aveva lasciato a guidare il paese appunto ordinarono alle truppe di disperdere i manifestanti ma a questo punto accadde una cosa imprevista. Infatti l'esercito rifiutò di obbedire agli ordini e anzi si schierò dalla parte dei rivoltosi. Era così che ebbe inizio la rivoluzione di febbraio una rivoluzione che poi si estese fino a coinvolgere anche la capitale Mosca. Ormai si chiedevano apertamente in Russia la distribuzione delle terre e l'instaurazione della democrazia. Quali furono le conseguenze di questa rivoluzione di febbraio? Beh era evidente che il regime zarista non riusciva più a controllare la situazione addirittura all'esercito si era ribellato si era alleato con i rivoltosi e quindi lo zar Nicola II fu costretto ad abdicare. A favore di chi abdicò lo zar? Beh ovviamente non poteva farlo a favore del figlio Alexei Lozarievich era troppo piccolo ancora e soprattutto era malato anche se come sappiamo la sua malattia era tenuta segreta per cui abdicò a favore del fratello minore ma quest'ultimo vista la situazione rifiutò di essere coinvolto e così la monarchia zarista finì e nacque la repubblica. Quindi abbiamo come conseguenza da ricordare l'abdicazione dello zar Nicola II e la nascita della repubblica una repubblica che qui ho definito borghese perché la Duma il parlamento russo era a prevalenza liberale aveva una componente liberale moderata prevaleva all'interno del parlamento all'interno della Duma infatti la maggioranza era quella del partito dei cadetti che rappresentavano appunto come sappiamo la borghesia russa. La Duma elesse un governo provvisorio preseduto da un principe da un grande nobile il principe Lvov che era appunto un aristocratico ma molto aperto alle riforme e quindi gradito ai borghesi. Vediamo qui una riunione del governo Lvov con il principe Lvov qui al centro. Il nuovo governo il governo provvisorio del principe Lvov però doveva fare i conti con un altro centro di potere non ufficialmente riconosciuto forse ma molto molto reale si trattava del soviet di Pietrogrado. Da dove derivava la forza del soviet di Pietrogrado? Beh derivava prima di tutto dall'appoggio dell'esercito. Sappiamo che la guarnigione di Pietrogrado si era ammutinata e questo atto di insubordinazione di inizio marzo aveva fatto temere ai soldati ritorzioni da parte del governo centrale. È ovvio che un governo non può accettare che una guarnigione che una parte dell'esercito si schieri dalla parte degli insorti e non obbedisca agli ordini quindi i soldati timorosi di ritorzioni avevano cercato l'appoggio del soviet lo avevano riconosciuto come unica autorità. Quindi il soviet di Pietrogrado non era più formato soltanto da deputati degli operai ma anche da membri eletti dai soldati. A questo punto abbiamo un soviet a Pietrogrado che è un centro di potere veramente operante, veramente efficace poiché appunto come dicevo ha dalla sua anche l'esercito distanza a Pietrogrado. C'è quindi un dualismo di poteri, vedete nella stessa città nel palazzo d'inverno si riunisce il governo Lvov che è il governo diciamo ufficiale riconosciuto dal Parlamento, dalla Duma ma da sempre nella stessa città da un'altra parte si riunisce il soviet che ha la forza vera perché alla fine ha dalla sua parte tutti gli operai di Pietrogrado e anche tutti i soldati. Questo dualismo di poteri, governo soviet, indebolì la neonata Repubblica russa poiché non si sapeva chi comandasse per davvero e questo in piena guerra che non dimentichiamo stava continuando. Quali erano le diverse proposte politiche dei due centri di potere? Allora il governo provvisorio prometteva molto ai russi, prometteva grandi riforme ma il problema è che si trattava di promesse vaghe, poco chiare e soprattutto promesse che si sarebbero fatte non subito ma in un futuro non ben definito. Quindi questa era l'unica cosa sicura, le riforme dicevano ci saranno ma non le faremo subito, le faremo in futuro, non si sa quando, dopo la fine della guerra. Invece il soviet dove prevalevano i menshevichi, cioè una parte dei socialisti, puntava sugli interessi della gente, quindi sulla riforma agraria che avrebbe distribuito le terre ai contadini russi. Ecco quindi queste due proposte come vedete erano molto diverse. L'unico punto dove erano concordi sia il governo del principe Lvov, quindi il governo borghese guidato dal partito dei cadetti, sia il soviet di Pietrogrado guidato dai menshevichi, guidato dai socialisti, l'unico punto dicevo sui quali questi due centri di potere concordavano anche se per motivi differenti era sul discorso della prosecuzione della guerra. Bisogna proseguire la guerra oppure bisogna tirarsene fuori? Beh, entrambi centri di potere volevano la prosecuzione della guerra. Dicevo i motivi erano differenti poiché secondo il governo provvisorio la vittoria militare sarebbe servita per rinforzare la nuova repubblica borghese, quindi volevano continuare a combattere e vincere ovviamente per questo. Il soviet invece voleva continuare a combattere e voleva vincere ovviamente per sconfiggere quelle potenze conservatrici imperialiste che erano la Germania e l'Austria e che erano vicine di casa della Russia, erano confinanti con la Russia, per cui sconfiggere queste grandi potenze conservatrici significava anche difendere la rivoluzione. Come potete ben capire questa impostazione politica che avevano i due centri di potere di San Pietroburgo, il governo di Lvov e il soviet di Pietrogrado, provocò una frattura tra il popolo e appunto gli organi di governo perché la decisione di proseguire le ostilità non piaceva assolutamente alla gente, la rivoluzione in fondo perché era scoppiata? Era scoppiata proprio a causa della guerra e dei problemi da essa provocati. Il governo rivoluzionario che cosa faceva per risolverli? Nulla, anzi si comportavano e più nemmeno come lo zar continuando appunto le ostilità. Ma c'era in Russia un partito o meglio una parte del partito socialista, i bolshevichi, quindi i socialisti rivoluzionari, che volevano la pace. Ecco, gli unici che volevano veramente la pace immediata, una pace senza condizioni. Lenin, che era il capo dei bolshevichi, portava avanti proprio l'idea di una pace senza annessioni né indennità. Ecco, una pace immediata, senza porre nessuna condizione. Ma erano gli unici a porre, appunto a proporsi questo obiettivo. In aprile Lenin arrivò a Pietrogrado. Lenin era stato per anni in esilio in Svizzera e proprio nel clou, nel momento più importante, ritorna in Russia. Ora vi chiederete forse come ha fatto Lenin ad attraversare il fronte di guerra? Beh, la risposta è molto semplice. Furono proprio i tedeschi a far fare il tragitto a Lenin, ad ospitare Lenin in un loro treno, un treno blindato, un treno chiuso. Lenin non uscì mai perché non doveva essere risaputo che i tedeschi stavano scortando letteralmente un noto rivoluzionario russo attraverso le loro terre per portarlo in Russia. Ma Lenin, appunto, attraversò tutto il fronte di guerra su un treno tedesco, poi prese una nave e sbarcò a San Pietroburgo, o meglio a Pietrogrado. Questa appunto era una cosa segreta, ma si capisce bene perché i tedeschi lo hanno fatto? Lo hanno fatto semplicemente per rinforzare la rivoluzione e per far sì che appunto la Russia finalmente uscisse dal conflitto. I tedeschi in questo 1917 sono, come sappiamo bene, alle strette, gli Stati Uniti sono appena entrati in guerra e quindi hanno bisogno di togliersi un fronte per poter riversare tutta la propria potenza, tutto il proprio esercito contro la Francia e contro l'Inghilterra prima che arrivino gli Stati Uniti. E sappiamo bene che la loro forza si riverserà anche in parte contro di noi a Caporetto e dove appunto contro i tedeschi l'esercito italiano si disgregò completamente. Ebbene quindi Lenin arrivò ad aprile, dicevo, a Pietrogrado di ritorno dall'esilio in Svizzera e presentò ai suoi compagni di partito un documento, un documento che si chiamano le tesi di aprile. Lo vedete qui nell'immagine, un documento manoscritto con dieci punti, dieci punti che contenevano appunto le idee di Lenin sui compiti immediati del partito. Quali erano i punti fondamentali? Ora io ne ho messi soltanto tre che erano appunto i più, che sono i più importanti. Intanto tutto il potere ai Soviet, basta con il governo provvisorio, basta con questi borghesi al potere che sono pochissimi, sono una minoranza estrema all'interno della Russia, il vero potere deve essere consegnato nelle mani dei Soviet, che rappresentano gli operai, che rappresentano i lavoratori. Quindi abbattere con la forza il governo provvisorio. Secondo punto importante, pace immediata, far uscire immediatamente la Russia dal conflitto. Non vi deve stupire quindi che i tedeschi abbiano trasportato Lenin verso la Russia. ed infine dare la terra ai contadini, confiscare le terre ai nobili, metterle a disposizione dei Soviet locali e quindi appunto dare la terra in mano ai contadini. Dopo il ritorno di Lenin, nei mesi che vanno dall'aprile del 1917 all'ottobre dello stesso anno, i bolshevichi prepararono la loro rivoluzione contro il governo provvisorio. Prepararono una forza armata che attaccasse il palazzo d'inverno, l'hermitage, dove si riuniva appunto il governo provvisorio e prendesse il potere. Un vero e proprio golpe militare. La disfatta militare, la disoccupazione, la miseria dilagante, l'appoggio delle masse popolari che volevano la pace immediata, spingevano sempre più i bolshevichi verso questa decisione che abbiamo visto Lenin aveva proposto fin dall'aprile. In questo momento, nell'ottobre del 1917, il governo provvisorio non era più presieduto dal principe Lvov, ma da un altro, da Karensky. Quindi adesso non abbiamo più il governo Lvov, ma abbiamo il governo Karensky. Per riuscire appunto a prendere il potere, vi dicevo, i bolshevichi organizzano una vera e propria forza militare, la Guardia Rossa, guidata da Trotsky. Vi ricorderete, Trotsky era stato uno dei bolshevichi più importanti fin dal 1905, primo presidente del primo Soviet di San Pietroburgo. Tra l'altro, bisogna dire che i preparativi furono tutt'altro che segreti. Infatti, praticamente lo sapevano tutti, perché per tutto il mese di ottobre del 1917, appunto, sui giornali e nelle strade non si fece che parlare di questa insurrezione che i bolshevichi stavano preparando e ci si chiedeva, appunto, se sarebbero riusciti o no. La maggioranza li dava per spacciati. Pensavano che, la maggioranza pensava che anche se fossero riusciti a entrare nel palazzo d'inverno e a prendere il potere, questa loro, diciamo, supremazia sarebbe durata ben poco e che subito e immediatamente le forze governative avrebbero ripreso il sopravvento. Ecco che siamo arrivati al momento più importante della rivoluzione russa, la rivoluzione dell'ottobre del 1917. Quindi, abbiamo visto un primo momento rivoluzionario in questo anno così particolare, il 17, appunto, un primo momento rivoluzionario a febbraio, a inizio anno, quando prende il potere la borghesia, il partito dei cadetti e lo zaro è costretto ad abdicare ed infine adesso vediamo un secondo momento rivoluzionario ad ottobre, o meglio, secondo il nostro calendario, a novembre, perché il 25 ottobre, per quanto riguarda il calendario del resto d'Europa, se non sbaglio, è il 6 di novembre. Quindi, che cosa succede? Succede che nella sera del 25 ottobre, i rivoluzionari entrarono in azione. Attaccarono il palazzo d'inverno, come vedete qui da questo fotogramma tratto dal celebre film Ottobre di Eisenstein. Questo è il palazzo dove risiedeva, il palazzo d'inverno appunto, dove risiedeva d'inverno la famiglia reale, dove c'era il governo, dove aveva sede il governo provvisorio. Attaccarono, dicevo, il palazzo d'inverno, sede del governo Karenski, e lo conquistarono. L'attacco al palazzo divenne un episodio proprio simbolo della rivoluzione d'ottobre, ma fu un avvenimento praticamente incruento. In effetti la rivoluzione vinse provocando in tutto non più di una quindicina di morti, quindi fu un'azione abbastanza tranquilla. Dopo che l'ultima resistenza repubblicana a Mosca venne sedata, il potere si concentrò definitivamente nelle mani del capo dei bolshevichi, cioè nelle mani di Lenin. E Lenin, il giorno dopo, il 26 ottobre, parlò per la prima volta al congresso dei soviet, dando inizio al vero e proprio potere sovietico. Ricordatevi che fin da aprile, lui era arrivato con le tesi di aprile, una delle più importanti, diceva appunto, tutto il potere doveva andare ai soviet. Gli operai dovevano essere coloro che comandavano, che guidavano la Russia. Tuttavia vi dicevo già prima che era opinione diffusa che i bolshevichi sarebbero riusciti a conservare il potere al massimo per qualche settimana e che i conservatori avrebbero restaurato presto l'ordine con una intransigente controrivoluzione. Ma intanto, mentre erano al potere, mentre aspettavano la controrivoluzione appunto, i bolshevichi istituirono un nuovo governo. E questo nuovo governo prese un nome un po' complicato, il consiglio dei commissari del popolo. E fecero approvare dal congresso dei soviet quattro decreti, i famosi decreti di novembre. Ed eccoli qua, i decreti di novembre. Io ve ne ho scelti due, che sono i più importanti per i nostri fini. Sono quattro decreti, ma i due più importanti sono i seguenti. In primo luogo, il decreto sulla pace. Si mettono in atto le tesi di aprile. Il decreto sulla pace invita i paesi belligeranti ad una pace immediata, senza annessioni territoriali, e si avviano le trattative con la Germania e con l'Austria per firmare la pace, che poi appunto verrà firmata, come vedete più in basso, il 3 marzo del 1918, è la cosiddetta pace di Brest-Litovsk. E poi il secondo decreto importante fu appunto il decreto sulla terra. Questo aboliva la proprietà privata della terra e di conseguenza disponeva la confisca delle grandi proprietà e la distribuzione della terra ai soviet locali, quindi ai contadini. Quindi i decreti di novembre ebbero delle conseguenze importantissime. Intanto si sanò quella frattura tra governo e popolo che avevamo visto essere nata quando il governo provvisorio e anche il soviet di Pietrogrado avevano rifiutato di far finire la guerra, avevano deciso di proseguire le ostilità. Poi, come vi dicevo, iniziarono le trattative di pace con i tedeschi e con gli austriaci ed infine però ci fu un'altra conseguenza. I bolshevichi si distaccarono definitivamente dalle altre forze politiche, anche dai menschevichi, perché appunto avevano attaccato e avevano preso il potere in maniera violenta, con un vero e proprio golpe militare. E quindi la maggioranza degli altri partiti politici, degli esponenti delle altre forze politiche, abbandonò il congresso. In quel mese di novembre del 1917 erano state indette le elezioni, elezioni che si dovevano tenere a suffragio universale maschile. Per cui Lenin, che aveva appunto con i decreti di novembre dato la terra ai contadini, si aspettava una vittoria schiacciante nelle elezioni e quindi si aspettava di ottenere da queste elezioni una legittimazione per il nuovo governo bolshevico che si era insediato in maniera così violenta, con un vero e proprio golpe militare. Purtroppo per Lenin però i bolshevichi le elezioni le persero. Le persero in maniera schiacciante. E il governo rischiò di cadere. Allora Lenin decise per un colpo di mano. Le nuove elezioni dovevano scegliere i membri dell'assemblea costituente, cioè quella assemblea che avrebbe dovuto scrivere la costituzione della neonata Repubblica Russa. E Lenin sciolse d'autorità questa assemblea il primo giorno di riunione. Così instaurava di fatto una vera e propria dittatura del proletariato, cioè una vera e propria dittatura della classe operaia. Com'è che Lenin poté giustificare una cosa del genere? Beh, si giustificò dicendo che le campagne avevano votato per i moderati solo perché non erano politicamente mature e avevano seguito i contadini, i letterati, i analfabeti, avevano seguito nel voto i consigli che erano stati dati loro dai sacerdoti, che erano stati dati loro dai signori. Nelle città, faceva notare Lenin, che erano politicamente più informate, i bolshevichi avevano infatti vinto. Quali furono le conseguenze di questo colpo di mano di Lenin, di questo scioglimento dell'Assemblea Costituente neoeletta e dell'instaurazione della dittatura del proletariato? Beh, intanto i bolshevichi si allontanarono definitivamente da vasti strati della popolazione perché appunto questi avevano votato e i loro desideri non erano stati rispettati. Inoltre, molti intellettuali e molti aristocratici si resero conto di dove tirava il vento e scelsero la via dell'esilio volontario. Si contarono in quel periodo più di un milione di esuli volontari dalla Russia. Infine, i governi occidentali, gli ex alleati dell'Intesa, cominciarono a considerare questo nuovo potere che si era instaurato a Pietrogrado, il nuovo potere sovietico, come un qualcosa di estremamente pericoloso perché non soltanto aveva distribuito le terre ai contadini ma si era dimostrato anche antidemocratico sciogliendo di forza la Costituzione. Un'ultima conseguenza fu lo scoppio della guerra civile perché appunto i nemici dei bolcevichi erano tanti e cercarono di riprendere il potere. Una guerra civile veramente terrificante che durò due anni e provocò qualcosa come 3 milioni di morti. Bene, con questo io ho concluso, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.